Buongiorno a tutti, in questo nostro nuovo video vi presentiamo un monocolo short focus 8x, l'ingrandimento è 8 volte, è adatto per osservare da lontano ma anche da vicino, e questa è la particolarità, è per questo che è chiamato short focus. Una pratica cordicella permette il trasporto al collo e la custodia permette di riporlo in modo compatto. La lunghezza è 86 mm, adesso lo stiamo aprendo, quando è tutto aperto osserviamo da vicino, da 30 cm, 40 cm, mezzo metro, quando invece è chiuso osserviamo all'infinito, ecco qui, adesso è tutto aperto, 86 mm, è molto compatto e pesa poco, è facile da trasportare, quindi va bene anche per il blur watching e per le osservazioni in natura. Eccolo qui invece quando è chiuso, questo è l'oculare dove appoggieremo l'occhio per l'osservazione, mentre questo è l'obiettivo. Abbiamo visto un monocolo 8x, ingrandimento 8x, short focus, per osservare sia da lontano che da vicino. Grazie per l'attenzione e speriamo di esservi stati utili. Se siete interessati potete anche iscrivervi al nostro canale su YouTube. Buona giornata, grazie. 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 Grazie.